ciao a tutti cari amici e amiche sono della bilancia eccoci qui pronti per il vostro oscopo dal 31 di ottobre al 6 di novembre 2022 grazie di cuore per seguimi sempre vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra lasciatemi un like, un commento, un feedback e sarò lieto di rispondervi benissimo vi ricordo che queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti per quello mi invito a optare per i miei consulti privati di cartomanza vi lascio qui sotto tutto nel box informazione incominciamo a capire le energie per questa settimana per voi del seno della bilancia estrendo 5 carte abbiamo la carta dell'imperatrice, l'arcangelo Gabriele, la carta numero 3 vediamo il secondo messaggio con la carta di Tarocchi se siete interessati a Mimazzi, Oracoli, Tarocchi e Sibille potete entrare nel mio shop online trovate qui sotto il link di accesso poi la carta del 7 di bastoni ok vediamo la carta centrale con il mio oracolo è dell'età romene abbiamo l'incontro, il contatto carta numero 1 poi vediamo i tarocchi celtici cosa vogliono dirvi vediamo i tarocchi celtici per voi della bilancia abbiamo l'edera ok e invidiamo se si aprirà qualche porta durante questa settimana e quale tipo di porta abbiamo la porta del fuoco però rovesciata ve la metto dritta giusto per farvi vedere meglio la carta ok facciamo un breve zoom indietro perfetto adesso dovreste vederle tutte allora qua è una settimana in cui potrete incontrare un qualcuno potrebbe essere anche una donna visto che è uscita questa carta dell'imperatrice una donna che ha anche un certo fascino un certo potere anche potrebbe essere un'autorità un comando diciamo una persona che è al comando di un qualcosa potrebbe essere anche di un gruppo di persone potrebbe essere quindi un luogo di lavoro un'azienda potrebbe essere anche proprio la firma di un qualsiasi tipo di contratto potrebbe essere proprio firmare un contratto per aprirvi a nuove possibilità qui l'imperatrice vi invita a mettere in pratica i vostri piani se durante le settimane precedenti avevate avuto delle idee avete anche scritto nero su bianco in maniera anche dettagliata dei piani di azione ora bisogna metterli in pratica perché fondamentalmente la vostra creatività verrà premiata e riceverete o avete a disposizione delle risorse ricche qualcosa che vi permetterà di costruire un qualcosa di veramente bello e di veramente stabile però dovete dovrete lottare per affermare voi stessi questo è proprio una sorta di sfida ok e lotterete fino in fondo per arrivare verso quella persona o verso quella situazione che ripeto può riguardare l'ambito relazionale lavorativo economico o comunque qualcosa di privato dovete difendere le vostre convinzioni dovete difendere quello in cui voi credete realmente ok qua comunque sarà una settimana abbastanza rutinaria ma di sicuro è una routine di tipo rassicurante c'è comunque anche stabilità anche equilibrio comunque nella vostra vita e qui potreste trovare comunque rassicurazione o verrete rassicurati da una persona qua ripeto potrebbe essere anche una donna non è detto però c'è proprio un senso di protezione che riceverete da una persona cara che vi vuole comunque realmente bene ora il messaggio che voglio darvi invece di quest'ultima carta dato che è la porta del fuoco uscita rovesciata è quello di non bruciare le vostre energie in progetti o qualsiasi tipo di relazione che non è di sicuro corretta ok non è affine a voi e inoltre qui attenzione alla vostra carica impulsiva perché un'impulsività mal incanalata può risultare comunque disastrosa nei vari settori della vostra vita quindi dovete fare molta attenzione affinché le vostre passioni di tipo irrazionale non prevalgano sulla vostra parte più razionale e più logica e tutto questo può offuscare il vostro giudizio e il vostro buonsenso ok quindi mi raccomando attenzione anche ai cosiddetti fuoco di paglia che potreste ritrovare proprio durante questa settimana quindi potrebbe esserci sì la firma di un contratto potrebbe esserci sì l'incontro con uno o più persone però mi raccomando non siate così impulsivi non buttatevi così a capofitto in una relazione o in un rapporto perché poi l'illusione è dietro l'angolo ok quindi mi raccomando sono ovviamente energie che non sono valevoli per tutti poi qua ripeto è la prima carta comunque l'imperatrice che è un'energia molto bella quindi se avete in mente un progetto dovete renderlo concreto non è che dovete solamente pensare e basta dovete mettere in moto quindi mettere in azione un qualcosa di concreto per realizzare davvero quello che volete qua potrete costruire un qualcosa con le vostre mani costruire costruire un progetto ma anche proprio costruire qualcosa proprio con le vostre mani anche da puntista lavorativo e dovete comunque lottare fino in fondo per vedere realizzati i vostri progetti ok quindi se credete veramente in qualcosa andatelo a prendere mi raccomando ok benissimo cari amici queste erano le indicazioni di massima per questa settimana e vi aspetto sempre qui sul tag o me ciao a tutte alla prossima grazie